Mai come nel caso del fallimento della De Julemar, compagnia della navigazione schiantata dal peso dei debiti, il destino di una società privata rischia di intrecciarsi irrimediabilmente con quello di un'intera città. Accade a Torre del Greco, alle porte di Napoli, dove da quando il 2 maggio il Tribunale ha dichiarato il fallimento di questo colosso imprenditoriale, oltre 13.000 famiglie rischiano di perdere tutti i soldi investiti in questi anni per assicurarsi in massima parte una pensione alternativa. Si tratta di oltre 700 milioni di euro inghiottiti nel buco nero della compagnia di navigazione che il Tribunale ha dichiarato fallita sulla scorta dell'istanza presentata da sette creditori. Il colosso dell'armatoria è stato messo in ginocchio dalla crisi dei noli e quasi sicuramente dalla cattiva gestione del sistema di raccolta dei fondi. Le obbligazioni. La società con sede in via Tironi ne avrebbe potuto emettere un numero pari al corrispettivo di 42 milioni di euro. Alla fine gli investitori hanno depositato sui conti e nelle casse della compagnia qualcosa come 720 milioni, 680 dei quali appartenenti a quel cosiddetto mondo parallelo, termine coniato da Roberto Maviglia, l'amministratore unico subentrato all'inizio della crisi all'88enne Michele Giuliano, e che spiega come quei fondi siano stati raccolti senza seguire i crismi della regolarità. Non a caso proprio Maviglia a febbraio aveva denunciato la presenza di titoli non conformi, portando la procura di Torri annunziata ad aprire un fascicolo contro i gnoti. Nel corso delle settimane in quel fascicolo sono finiti 5 nomi, ancora top secret, persone indagate per approvazione indebita, ma questo è un altro discorso.